Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione targata Audi News TV, ancora telegiornali in diretta. Cominciamo con la cronaca con un incidente dall'esito purtroppo mortale che si è verificato poco prima delle 15.30 sulla A23 da Udine Sud al nodo di Palmanova in località Bicinicco. A scontrarsi un furgone e un auto articolato nel tamponamento, il primo mezzo è finito sotto il tir, sul posto per i rilievi la polizia stradale oltre che al personale di autovia e mezzi di soccorso. 4 km di coda in quel momento a causa dell'incidente che era avvenuto nel pomeriggio a San Giorgio di Nogaro. Attualmente la rete è sotto pressione, è difficilissima la situazione della viabilità in autostrada sia sulla A23 che sulla A4 perché l'incidente di questa mattina alle 12 che ha coinvolto un auto articolato e due autocisterne all'altezza di San Giorgio di Nogaro e che ha causato un ferito lieve sta creando enormi problemi alla circolazione della barriera Trieste-Lisert fino a Latisana. Lo vediamo nell'immagine che chiedo alla regia se è possibile anche di allargare ulteriormente. Ecco l'incidente, grazie, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana e per consentire anche il travaso della formaldeide che appunto era contenuto in uno dei mezzi coinvolti nello scontro sarà necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Qui vediamo la corsia a larghezza ridotta per i lavori ma negli eventi di traffico ci sono anche appunto gli incidenti. Questo di cui vi stiamo parlando adesso tra Udine Sud e il Bivio e le code appunto tre chilometri causate proprio dall'incidente ma le code arrivano fino all'Isert lo vediamo ancora sempre dal sito infoviagendo.it tra barriera Trieste-Lisert proprio c'è coda relativa ai vari incidenti che si sono verificati e poi lo vediamo sulla 34, svincolo chiuso tra Villesse in entrata a Gorizia sulla 34 tra Villesse e Gorizia e poi ancora scambio di carreggiata per lavori in corso tra Gorizia e Gradisca quindi massima attenzione se vi dovete mettere in viaggio e date un'occhiata proprio al sito internet infoviaggiando.it. Sempre per quel che riguarda gli incidenti questa mattina un pauroso sinistro lungo la strada statale 52 Carnica a Forni di Sotto protagonista una donna, una badante residente a Forni di Sopra erano le 8 di mattina quando l'automobilista diretta ad Ampezzo a bordo della Polo della sua Polo probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato è smandata autonomamente ha sbattuto su un moretto di cinta e poi è uscita di strada finendo la sua corsa tra gli alberi rimanendo incastrata all'interno dell'abitacolo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i volontari di Forni di Sopra e forestale il 118 una guida alpina si sono calati nel fosso per imbragare la donna a portarla in salvo sotto shock ma fortunatamente illesa a seguito dell'impatto che però ha distrutto la sua vettura questa mattina intervento anche dei vigili del fuoco a Palmanova per un incendio una chiamata di soccorso giunta proprio per le fiamme che si erano sviluppate in un appartamento in via Pisani in quel momento non c'era nessuno ma le fiamme hanno invaso il soggiorno e anche altri locali dell'appartamento probabilmente a causa di una stufa con alimentazione elettrica che ha preso fuoco l'appartamento non è agibile fortunatamente non si registrano feriti scossa di terremoto quest'oggi di magnitudo 3.2 Richter che è stata registrata a Otedorsica in Slovenia una quarantina di chilometri a est di Gorizia lo risulta la protezione civile ma lo vediamo anche dal sito internet relativo proprio ai fenomeni sismici in Italia a profondità 18 chilometri solo ieri la terra aveva tremato nel Cimidalese vicino a Pulfero sabato un'altra scossa avvertita a Vigo di Cadore in provincia di Belluno lo dicevamo questa mattina alle 8.57 in Slovenia una scossa di 3.2 gradi Richter a Otedorsica e poi ancora il caso del medico indagato a Trieste sono nove i casi di morte sospetta che le PM della procura di Trieste Cristina Bacere e Chiara Degrassi hanno contestato al medico indagato secondo il quale secondo l'accusa avrebbe somministrato sostanze ai pazienti che potrebbero averne causato la morte per il GIP invece la sussistente gravità indiziaria si configurerebbe soltanto per 4 casi oltre a 8 episodi di falso presentati oggi i tavoli di lavoro che il 23 e il 24 novembre porteranno alla stesura del manifesto della montagna un percorso che sarà seguito passo dopo passo da un assessore alla presentazione c'era il governatore Fedriga che passerà la delega ad un membro della giunta sentiamo di cosa si tratta saranno degli stati generali della montagna improntati alla massima operatività e concretezza quelli in programma venerdì e sabato a Tolmezzo momento in cui dopo i saluti istituzionali saranno avviati i lavori dei quattro tavoli tematici incentrati su economia e attività produttive assetto istituzionale e rapporti con lo Stato, servizi e territorio l'obiettivo sarà quello di giungere alla definizione del manifesto della montagna un documento programmatico che nelle intenzioni del governatore Fedriga dovrà essere composto da alcuni obiettivi fondamentali pochi ma concreti da sviluppare nei prossimi 5 anni per far ripartire la montagna per la stesura del documento un apporto potrà giungere anche dai cittadini con la loro partecipazione diretta che potrà avvenire già da oggi con i nuovi mezzi di comunicazione a disposizione della regione a partire dal sito istituzionale dell'ente e tramite social media con l'hashtag la mia montagna a fare da volano gli investimenti necessari a preparare la carnia ad accogliere gli A-Off Friuli Venezia Giulia 2023 il festival invernale dei giochi olimpici della gioventù europea a cui potrebbe aggiungersi anche la competizione del biathlon a Fornia Voltri durante le Olimpiadi Invernali 2026 Noi con il commissariamento del rischio idrogeologico stiamo rimettendo in piedi tutta una struttura per renderla ancora maggiormente operativa visto anche che con la riforma degli enti locali comuni hanno difficoltà ad operare tutte quelle procedure necessarie per fare gli interventi ma non solo con il commissariamento straordinario per il rischio martempo stanzieremo ovviamente risorse per queste aree l'ipotesi che stiamo studiando in giunta è di attivare nuovi mutui per portare investimenti consistenti e quindi l'infrastruttura ovviamente sono fra le prime che troveranno risposta in generale noi pensiamo di riuscire ad attivare investimenti che vanno tra i 200 e i 250 milioni di euro nel triennio Coltivare i talenti e le aspirazioni lavorative dei giovani per costruire concretamente qualcosa per il loro futuro a questo vengono indirizzate le risorse del Fondo Sociale Europeo una prospettiva destinata ad allargarsi questi alcuni dei concetti espressi a Trieste dall'assessore al lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen Assessore Rosolen, un'ampia partecipazione di giovani, di studenti oggi alla presentazione del Fondo Sociale Europeo di quello che fa per il lavoro, per i giovani e per la formazione Ai giovani sono destinate moltissime delle risorse del Fondo Sociale Europeo tramite la misura attiva Giovani People o anche attraverso la promozione degli istituti tecnici superiori Il Fondo Sociale serve a garantire l'occupazione ed è una rete che costruiamo con i soldi dell'Europa per dare delle risposte sul territorio tarate sulle esigenze delle imprese e sui principi di formazione utili all'occupazione che stanno alla base di qualsiasi buona formazione Abbiamo sentito la testimonianza, diciamo, di chi ce l'ha fatta di chi ha usufruito dello strumento e è riuscito ad avere un lavoro e una soddisfazione personale Importante è questo per gli altri giovani? Importante è coltivare i talenti dei giovani e dare loro l'opportunità di fare qualche cosa di utile per il loro futuro che gli garantisca l'occupazione Lei ha parlato di esperienza positiva anche per quel che riguarda gli istituti superiori in particolare quello marittimo che a Trieste ha trovato uno sviluppo importante ecco, da lì un'idea che è partita del territorio che poi si è sviluppata grazie all'Europa Le idee partono dal territorio non solo per quanto riguarda il polo marittimo ma anche ad esempio per quello delle scienze umane o del made in Italy o per la mecatronica sono settori che la nostra regione ha già sviluppato nel corso degli anni e sui quali continua a puntare altra cosa su cui deve puntare in maniera fondamentale il Fondo Sociale Europeo è garantire a tutti nel corso della vita percorsi che garantiscano la loro ricollocazione anche nei momenti meno fortunati Noleggiatori turistici, conducenti di furgoni per i disabili tassisti gli NCC, noleggi con conducenti pronti a bloccare Roma a rischio l'esistenza dell'intera categoria il 29 novembre la manifestazione a Piazza della Repubblica ecco i perché dello stato d'agitazione dalla voce del rappresentante della regione Defensa Torna ad attualità la questione legata ai noleggi con conducente siamo con Luigi Defensa che è il responsabile per il Friuli Venezia Giulia dell'Anitrav che cosa chiedete al governo? Che risposte e che situazioni difficili state vivendo? Dieci anni che il governo sospende l'entrata in vigore del coma 29.1.4 che prevede delle normative molto restringenti per il settore ogni anno sono state sospese questi decreti attuativi per l'entrata in vigore quest'anno sembra che il governo non ci ha ancora dato delle risposte per la sospensione del 2019 di conseguenza c'è il rischio che se entrassero in vigore metterebbero in crisi un settore che rappresenta circa 80.000 imprese e 200.000 addetti fra dipendenti, datori di lavoro per cui è un dramma per tutto il settore In Friuli Venezia Giulia a quanti siete interessati? Io penso che è di interesse di tutti i noleggiatori perché le norme restringenti prevedono il rientro per dirne una in rimessa dopo ogni singolo servizio lei provi a immaginare che un noleggiatore che ha dei turisti che devono stare tre giorni a visitare il Colio oppure che vanno a Venezia finito la sera al servizio alle 9 che li lasciano in albergo dovrebbero far rientro a Udine per poi ripresentarsi il mattino successivo a riprenderli l'obbligo da parte del noleggiatore se entrassero in vigore queste norme di avere la sede fiscale all'interno del territorio o del comune in cui è stata rilasciata l'autorizzazione ci sono dei noleggiatori che hanno 4-5 autorizzazioni di comuni diversi obbligherebbero ad aprire nuove partite IVE per mantenere la sede cioè quindi è incostituzionale questa cosa qui adesso torniamo a parlare del mercato coperto organizzato da Campagna Amica abbiamo seguito le tappe delle varie vicende con l'apertura e poi la programmazione del calendario di appuntamenti quest'oggi eravamo live proprio dal mercato insieme a Luciani Delfonso ma scopriamo quali sono le iniziative che sono in programma da qui fino a Natale orario di apertura ampliato prodotti a chilometro zero e rigorosamente coltivati e allevati in Friuli Venezia Giulia show cooking con tante proposte golose alla scoperta dell'olio di oliva della birra di aperitivi in alta quota con prodotti della montagna e ancora laboratori per bambini e una giornata intera dedicata alle stelle di Natale coltivate in Friuli sono queste alcune delle novità che animeranno da oggi fino alla fine dell'anno il mercato coperto di via elettricesimo realizzato da Coldiretti sempre meno semplice punto di vendita diretto e sempre più luogo di intrattenimento beh questo mercato coperto sta andando alla grande è ormai lontano il giorno dell'inaugurazione devo dire che l'affluenza delle persone non è calata e anzi c'è una maggior richiesta di orari di apertura ed ecco che dal 23 novembre l'orario di apertura aumenta e terremo aperti anche non solo il martedì il venerdì il sabato dalle 8 alle 14 ma anche il venerdì pomeriggio questo fino all'ultimo dell'anno perciò l'orario sarà ampliato il venerdì pomeriggio saremo aperti anche dalle 15 e 30 fino al 19 e 30 e con nuove iniziative organizzeremo ancora più show cooking e a proposito di iniziative natalizie sarà Elisa la cantante ad aprire Ronchi Natale la rassegna proprio di appuntamenti che scandirà le feste a Ronchi dei Legionari la cantante regalerà un concerto domenica 25 ai suoi compaesani anche come madrina del torneo Curling Biziac sarà il concerto acustico di Elisa ad aprire domenica 25 la rassegna Ronchi Natale ovvero il cartellone di eventi ideato da Comune Proloco e Associazione dei Commercianti Ronchi Live anche con il contributo della Camera di Commercio della Venezia Giulia la cantante ha voluto fare un regalo alla sua comunità inaugurando il giardino di Natale come madrina del Carling Biziac il torneo che conta ben 48 squadre che si sfideranno sul ghiaccio con le pentole a pressione tanti gli eventi che correderanno il periodo natalizio con Ronchi dei Legionari che si propone sempre più come comune turistico in questa direzione Ronchi vuole essere un punto di riferimento per tutto il mandamento e non solo i successi degli anni scorsi del giardino Natale hanno aperto la pista ad ulteriori successi un nuovo sito più grande che permetterà di sviluppare e richiamare ulteriori cittadini speriamo che il nostro aeroporto fra virgolette decolli sempre di più e anche portare gli uffici di promo turismo all'interno del nostro aeroporto potrebbe essere una cosa molto importante per lo sviluppo futuro quest'anno partiamo veramente col botto come si suol dire la nostra perla della bisaccheria Elisa verrà ad aprire l'evento voglio sottolineare che è stato un regalo di Elisa è venuta lei a proporsi per farci questo regalo come ogni anno il giardino dura 45 giorni quindi è una festa credo delle più lunghe in regione noi abbiamo il carlin bisac che è il nostro must apriamo adesso una finestra sulla situazione dell'economia regionale perché andiamo in esterna con la nostra Francesca Santoro che si trova all'interno del Dipartimento di Scienze Economiche di Via Tomadini a Udine quindi all'interno degli spazi e dell'università dove si sta tenendo una presentazione importante a te Francesca Sì buonasera Valentina con noi Luigi Bettoni che è il presidente della sede del Friuli Venezia Giulia della Banca d'Italia oggi la presentazione dei dati della fotografia dell'economia della nostra regione quali sono i punti più importanti secondo lei? L'andamento di quest'anno del Friuli Venezia Giulia è stato molto positivo direi che è stato un po' superiore anche alla media nazionale e che l'economia che era già andata bene l'anno scorso si è sviluppata e si è rafforzata ulteriormente nei primi tre trimestri dell'anno è andata bene sia la produzione industriale che è stata trainata dalle esportazioni e soprattutto nei settori della cantieristica e della meccanica e poi sono andati bene però anche il settore dei servizi in particolare il trasporto merci col sistema portuale che è cresciuto di oltre il 5% il turismo anche quello è cresciuto del 5% e da ultimo anche il settore dell'edilizia ha mostrato i primi segni di ripresa un po' per l'andamento del mercato immobiliare e un po' anche per l'andamento delle opere pubbliche nella regione dove c'è stato un incremento della spesa pubblica questo per i primi tre trimestri dell'anno in corso nel quarto trimestre si è notato invece un rallentamento un rallentamento sempre in fase di crescita perché conformemente all'andamento nazionale e anche internazionale gli operatori economici hanno avvertito un timore per le ripercussioni negative dell'andamento del commercio internazionale e delle tensioni finanziarie che si sono presentate sui mercati internazionali e temono anche qualche ripercussione sul livello della domanda interna a questo punto quindi per il 2019 pensano che possano ridursi anche gli investimenti delle imprese e quindi aggiornare un po' al ribasso i piani di investimento dopo un anno che sostanzialmente però rimane positivo Grazie al nostro ospite per queste spiegazioni a voi studio Grazie Francesca noi rimaniamo in tema economico politico perché vi andiamo a presentare un estratto di quello che sarà l'appuntamento di questa sera alle ore 21 perché Domenico Pec le ha intervistato Gian Antonio Stella chiedendogli una fotografia della situazione molto lucida della politica nazionale e non solo al termine del periodo in cui ha dominato la casta sentiamo un estratto dell'intervista che poi vedrete integralmente proprio questa sera quanto è cambiato il paese dopo la casta? Si è incattivito e questa non è colpa né di Salvini né di cioè è colpa anche di Salvini e di Di Maio che hanno cavalcato l'incattivimento se però fossero state fatte le riforme che noi avevamo individuato come riforme da fare certo facciamo un altro mestiere per cui noi abbiamo soprattutto individuato i problemi poi toccava ad altri non abbiamo fatto le diagnosi toccava ad altri intervenire non sia anche i lunghi toccava ad altri poi usare i bistoli dove andava usato fatto questa operazione per autodifesa della casta stessa si sono difesi e soprattutto non hanno avuto voglia di scommettere sulle riforme questa sera allora le 21 l'intervista integrale a Gian Antonio Stella a cura di Domenico Pecci adesso andiamo alla Dacia Arena per gli ultimi aggiornamenti sempre live insieme a Jacopo Romeo ben trovati in diretta dalla Dacia Arena l'Udinese non è in campo perché si è allenata questa mattina alle ore 10.30 un allenamento particolarmente intenso tutto è centrato sulla tattica difensiva e offensiva e poi soprattutto anche sul possesso pala nella sua parte finale ma la notizia di giornata è il rientro al primo gruppetto di nazionali bianconeri perché si sono rimessi a disposizione di mister Davide Nicola Simone Scofette Rolando Mandragora Giuseppe Pezzella due su tre Pezzella e Scofette hanno fatto conoscenza del nuovo allenatore Mandragora già lo conosceva perché è stato un suo giocatore della scorsa stagione a Crotone praticamente per quasi tutto il girone di andata Scofette si è regolarmente allenato con gli altri portieri Musso e Nicolas mentre Mandragora e Pezzella che hanno giocato entrambe le gare dell'Under 21 contro Inghilterra e Germania hanno svolto un lavoro di scarico correndo un po' in campo e poi completando lo scarico in palestra insomma ancora hanno lavorato individualmente Antonin Barak e Luca Steodorczyk ma Barak ovviamente è una situazione diversa perché lui aveva avuto qualche fastidio alla schiena e sta lavorando per essere poi al 100% per la gara di sabato alle 15 contro la Roma il fattore di difficoltà qual è? è quello dei nazionali che rientreranno praticamente in extremis perché Nicola farà conoscenza di molti elementi cardini nella sua squadra soltanto nelle ore imminenti alla partita praticamente perché l'Arsen rientrerà in serata dopo le due partite della nazionale danese di Nations League contro Garlès Irlanda domani torneranno Macis e Kevin Lasagna che però rientrerà nel primo pomeriggio qui a Udine dunque salterà all'allenamento della mattina con i compagni praticamente avrà soltanto due sedute per preparare la gara contro la Roma un Kevin Lasagna per il quale l'attesa sta salendo perché lui questa sera alle ore 20.45 debutterà da titolare con la maglia della nazionale nell'amichevole che si gioca a Genk in Belgio contro gli Stati Uniti un'occasione importante perché l'ennesima conferma della fiducia che Roberto Mancini ripone in Kevin non soltanto per due convocazioni consecutive ma anche per lo spazio che ha avuto ad esempio gli ultimi 20 minuti della gara contro il Portogallo quando è stato chiamato a rilevare Immobile quindi vuol dire che è considerato ai primissimi posti e le gerarchie della nazionale per quanto riguarda il reparto offensivo ebbene questa sera avrà anche la chance di mettersi per la prima volta alla prova dall'inizio e perché no il sogno è quello di trovare anche la prima rete perché un attaccante vive per quello vive per il gol e poi un'altra buona prova in azzurro sarebbe la molla la spinta decisiva per provare a guidare l'Udinese nella partita di sabato contro la Roma per chiudere il capitolo nazionale bisogna dire che gli ultimi due a rientrare giovedì saranno i Kong che non è in campo nell'amichevole che proprio adesso sta disputando la Nigeria contro l'Uganda in panchina la Nigeria che si è qualificata alla Coppa d'Africa e Rodrigo De Pollo Rodrigo De Pollo che sarà in campo questa notte nella seconda gara della sua Argentina contro il Messico e dunque soltanto la giovedì sarà nuovamente a disposizione e potrà conoscere anche lui mister Davide Nicola domani la squadra tornerà in campo sempre di mattina così come in tutti gli altri giorni che ci separano alla gara con la Roma e vedremo insomma man mano come si andrà ricomponendo il gruppo e soprattutto che tipo di lavoro svolgeranno i nazionali che sono stati impiegati in giro per il mondo grazie Jacopo per questo aggiornamento con l'informazione noi ci fermiamo qui ritorniamo in diretta alle ore 19 a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti